Per i primi 12-13 minuti ci hanno credo doppiato a livello di energia. Siamo partiti in questo modo evidente, dove la partita si è indirizzata tutta a favore loro. Siccome noi non avevamo l'energia che avremmo dovuto avere, sicuramente io ho la mia responsabilità, perché la squadra l'aleno io e quindi devo fare sicuramente mea colpa. Dopo i primi 13-14 minuti abbiamo tirato fuori l'energia che non avevamo prima e l'abbiamo portata fino alla fine combattendo e sbuffando, ma purtroppo avevamo dato prima di tutto grande fiducia a loro e secondariamente il 29% dal campo di squadra finale che abbiamo avuto al tiro non poteva permetterci di rientrare, anche se a un certo punto per quanto fosse il divario siamo anche rientrati abbastanza vicini e ci potevamo anche credere. Ci sarebbe servito qualche canestro che oggi non c'è stato, però la partita si è decisa purtroppo per noi, ma all'auguratamente per come l'abbiamo interpretata, e ripeto, ne sono io responsabile, nei primi 13 minuti. Sono state due partite diverse, dai primi 13 minuti agli altri 27. Se non sbaglio vado a memoria, i primi 13 minuti eravamo sotto di 15-16, gli altri 27 abbiamo pareggiato, che non vuol dire niente, ma qualcosa vuol dire.